Sì, io volevo chiedere a Silvino cosa le manca nella malinconia, tenendo presente che la malinconia è la felicità di sentirsi tristi. Buonasera, gestiti meglio sì, certamente, ma non possiamo dimenticare che dall'altra parte c'è una squadra molto forte, l'Italia ha accelerato tantissimo il gioco. Sì, io volevo chiedere se la bellezza va consumata o protetta, grazie. Ma guarda, sì, dobbiamo capire e andare per la seconda gara. Grazie, la traduzione è tornata nell'interprofile, continuiamo, il ragazzo, la prima gara, per la prima gara. Sì, grazie, volevo chiedere a Silvino, secondo lei, si smette di pedalare quando si invecchia o si invecchia quando si smette di pedalare? Grazie. Buonnoit. Eh, come? Scusi, non ho capito. Io penso che noi abbiamo sofferto tantissimo nel primo 25 minuti. La prossima domanda è per il ragazzo in mezzo, la terza gara, come mi ricordo, è l'equipe reporter, se sono vero, sì? Sì, grazie, è una domanda breve la mia. Volevo chiedere, la vita di coppia, c'era doppia o c'è di mezza? Buonasera. Buonanotte. La competizione è iniziata? Abbiamo tre, quattro gare, no? No, scusate, tu prima, sì. Tu riuscite la mano, sì. Sì, grazie, volevo chiedere, secondo lei, è più facile che l'amore si tramuti in odio o l'odio in amore? Se ti ha corretto, se ti ha corretto. La parte lontana, per favore, in la bianca, la tua domanda è la prossima. Silvino, scusi. È fortunato perché è felice o è felice perché è fortunato? Lui ha fatto bene, ma non possiamo dimenticare che già mancavano 20 minuti di gara. The gentleman in the front, row here and then we go there. Sì, grazie. Allora, volevo chiederle, Silvino, lei crede in quello che fa o fa quello in cui crede? Certo. È in questo momento più tattico. Io penso che la parte emotiva abbiamo lasciato oggi, il primo 15, 20, 25 minuti è stato molto difficile. On the fifth row, he's raising his hand, please. Sì, grazie. Ero curioso di chiedere a Silvino, secondo lei, chi vince ha sempre ragione? Chi perde ha sempre torto? It's a great question, you understand. Listen, I told you before, once you are used to play in this kind of competition, it's easy. For example, that's my case. Do we have any questions here from press conference? You decided to ask this one, yes, please. Sì, grazie. Volevo chiedere, secondo lei, è più facile dare il cattivo esempio o è più difficile dare il buon esempio? Noi abbiamo preparato una gara per rimanere fino alla fine. And we see that there are no more questions here. We would like to say big thanks. Thank you for, Silvino, you personally, Fatian, for the cooperation. Thank you for, Silvino.